Tiovolo, che fetore! Mi ricorda il mio... E questo cosa significa? Hai abbandonato la missione. Quale missione? Eri svanita nel nulla e la mia squadra era divisa... Dei questo? Per essere tornato. Grazie. Ottimo lavoro, recluta. Davvero. Ma non è ancora finita. Capitano, stai indietro, mentre apriamo un barco. D'accordo. Resterò a proteggere la risorsa. Buck, la torretta ci blocca. Non possiamo avanzare. Attacca la torretta sul fianco. Falla fuori. Granata! Copritemi, starco! Copritemi, starco! CSE No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Non lasciare che si avvicinino all'alieno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Calma, l'alieno deve dare energia all'interruttore. Ok, tutto a posto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. L'engineer, l'engineer, dov'è andato? No, 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 no. Alla guida recluta, io penso a sparare. Ehi, capitano, Cerca di non intranciarci. Alla mia scuola! I Commandant devono aver chiuso le paure. L'Engine sbloccherà subito la serratura. Ecco fatto! Si va! Credo che sia finita. Wow! Che cos'è successo? Penso che l'Engine abbia potenziato lo scudo in piano corretta alla blindatura esterna. Non so quanto siano robusti gli scudi, stiamo vicino. Non ti preoccupare, ti copriamo. Prendi! Io sottotiro! Non ti preoccupare. Cos'è la sicurezza è stata. Un altro incrociatore Vanno al cratere della frattura iper spaziale Allo scavo Comerat, a nord della città Comersi, comersi, comersi Gli scudi reggeranno, ma non per poco Grazie, soldati. Gli scudi sono a posto Dammi la visuale Siete fatti Rekruta, non ti aperti, il capitano è nei guai Ok, gli scudi sono di nuovo attivi, si va! Resta, trova il palco! E' un bagrafic! Vieni, ferma il veicolo! Vieni, ferma il veicolo! Sei mio! Resta, attenti! Vieni, ferma il veicolo! Recruita, occhi aperti! Capitano dei guai! Io ho un po' tiro! Grazie, soldato! Gli scudi sono a posto! Ehi, un vorto con torretta Gauss! Cambiamo veicolo! Come prima, soldato! Tu guidi, io sparo! Tu guida, io ci penso io! Hai più vicino! Vieni, ferma il veicolo! Vieni, ferma il veicolo! Vieni, ferma il veicolo! Vieni, ferma! Grazie, soldato. Gli scudi sono a posto. Grazie, soldato. Grazie, soldato. Ok, gli scudi sono di nuovo attivi. Sì, va! Recruita, ecco il carro. Prendiamolo! Il capitano ha ragione, quel carro ci servirà. Prendiamolo! 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 Avvicinamento! Distruggiamo quella torretta! Prendiamolo! 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 Sono ferito! Sta caricando il suo raggio di scavo. Ma gli scavi sono dall'altro lato della città. Sì, sono ferito! Grazie a tutti. 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 Al diavolo, come stai tu? Bene, ma il camion dei rifiuti è andato. E' la prossima rampa di uscita. Mendo un edificio sul lato nord dell'autostrada. Aspetteremo lì il recupero. Via dal veicolo, soldato, presto! Veronica, resta qui. Forza, recluta. Occupiamo l'edificio. L'area è sicura. Vieni, vieni, Veronica, ti copriamo noi. Mickey, fra quanto sarai qui? Ho cambiato rotta, sergente. La città va a fuoco. Ho una risorsa di primo livello e un intero gruppo di Covenant che lo vuole morto. Cerca di sbrigarti. Costi quel che costi. Sì, signora. Phantom nemici in arrivo. Sì, signora. Questi sono città. Ma parla. La macchina Ma parla. Si, è inizio. Ma parla. Questa. Questa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altri Fanto! Attenzione! Grazie a tutti. 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 Muoviti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piano piano. Miki. 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 Piano interrogatorio. Ne abbiamo preso solo uno. È molto delicato. Non temere. So come trattare gli alieni. Può accedere alla rete dei Covenant? Solo parzialmente. Ma non riusciamo a capire come possa collegarsi in remoto alla... Ma che... Oh, fermi. Fermi. Sergente Maggiore, per favore. È estremamente infiammabile. I Brut. Quelli che hanno imbottito i tuoi amici di esplosivo e ucciso milioni di umani. Ora stanno scavando un grosso buco. Mi dirai per filo e per segno quello che stanno cercando e poi mi aiuterai a fermarli. Non per favore. Ma che prima cosa sia... Come ci sono. Ah... Qui si sono? Quattro.